Giovedì 8 settembre 2016, benvenuti tutti oggi al primo appuntamento di Milano All News. Io sono Bella Schachmirz e vediamo cosa succede oggi in città. Lo sciopero dei mezzi pubblici previsto nel lunedì 12 settembre è stato revocato. Le stesse sigle sindacali che avevano promosso l'agitazione hanno infatti ricevuto la promessa di un incontro con la regione Lombardia per mercoledì prossimo e per questo motivo hanno deciso di fare un passo indietro. Ricordiamo che lo sciopero sarebbe dovuto andare in scena dalle 8.45 alle 12.45 per tutti i dipendenti di autobus, tram e metropolitana. Rimaniamo sempre in tema di trasporti. La metro M3 sarà collegata alla nuova linea M4 da un passaggio pedonale. Lo ha assicurato all'assessore alla mobilità e all'ambiente Marco Granelli. Al momento sono in corso i primi progetti alla valutazione delle risorse, ma è oramai certo che il collegamento verrà realizzato. Non è ancora stato individuato il punto esatto dell'accordo, ma probabilmente si collocherà all'altezza della futura fermata Sforza Policlinico della M4 e si allacerà alla fermata Crocetto Missori della linea gialla. L'apertura del metro blu, attualmente in costruzione, è prevista per il 2022. Sono 2.000 le case vuote di proprietà del Comune di Milano, situate all'interno del Condomini Popolari, che saranno a breve sottoposte ad un intervento di ristrutturazione per far fronte alle numerose necessità abitative della città. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di realizzare un piano di manutenzione per riuscire, entro due anni, a non avere più alcun alloggio sfitto tra le proprietà comunali. A margine di una conferenza tenutasi al Palazzo Marino, Davide Corritore, presidente della MM, la società del Comune che si occupa delle gestioni e manutenzione nelle case popolari, ha spiegato che per la sistemazione di ciascun alloggio saranno necessari circa 16.000 euro. Il Salone del Libro di Milano è stato anticipato di un mese e si svolgerà dal 19 al 23 aprile 2017, nella settimana che culmina nella giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. La chermessa avrà luogo poco dopo la settimana dedicata al design e con circa un mese di anticipo rispetto allo storico Salone Torinese, già confermato per il periodo del 18 al 22 maggio. Lo hanno deciso oggi di Comune d'accordo Aie e Fiera Milano, una decisione che ha suscitato immediatamente le critiche dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e del presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino, che hanno definito questo comportamento irrispettoso e provocatorio nei confronti del ministro Franceschini e degli altri interlocutori. Grazie per averci seguito e ci vediamo all'ora di pranzo con una nuova puntata di Milano News. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.